Una città, una maglia, un amore, grigi nel cuore. Ogni giovedì ore 21 e 15 su Telesity 1, canale 111 del Digitale Terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo Sport in collaborazione con Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Negli occhi di tutti gli Alessandrini c'è ancora l'impresa di Pontedera. Che dopo le tre prodezze alla lotteria dei rigori da parte del portiere Vannucchi, ha portato i grigi in finale di Coppa Italia di Serie C. Un'impresa alla quale ora manca l'ultimo tassello della finale. Che si giocherà? In gara secca e in campo neutro contro la vincente dello scontro tra Viterbese e Cosenza. All'andata è finita 3-1 per i laziali. E' soddisfatto mister Marcolini. E' stato secondo me un netto predominio anche la prima mezz'ora del primo tempo. Abbiamo condotto le danze di lungo e largo. Abbiamo avuto qualche situazione dove potevamo sbloccare la partita, anche se onestamente niente di eclatante. Però non è facile giocare contro squadre che chiudono così bene gli spazi, squadre organizzate. Mi sono trovato spesso anch'io a fare le partite che stasera ha fatto Pontedera e quindi so quanto può diventare difficile per le squadre avversarie. Intanto è stato deciso che la gara di campionato tra Alessandria e Razzachena sarà recuperata a martedì 3 aprile alle 14.30 allo stadio Mocagata. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso sabato ma è stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse. Tutti argomenti che verranno approfonditi questa sera a Grigio nel Cuore in onda alle 21.15 su Telesity 1, canale 111 dove l'ospite della serata sarà il giocatore dell'Alessandria Antonio Giosa. Il meteo in collaborazione con Aria, acqua, vento, freddo. Lascia fuori le intemperie e i malintenzionati. Proteggi la tua casa con i fissi di gollo a seramenti. Gollo Serramenti Produzione e vendita a finestre in PVC Legno, alluminio, persiane in alluminio e blindate E per tutto il 2018 ti garantiamo un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13